Tantorista, fermo un attimo, c'è lì in mezzo. Signora, saluta, indovina che ci sta? Mio fratello. Saluta, ci facciamo un viaggio. Ciao, viaggio. A voi. A voi, a voi, a voi. A voi, a voi. Sì, e prova. Prova, sì, e prova. Vai, Dore, vai. A voi, a voi, a voi, a voi. A voi, a voi, a voi. A voi, a voi, a voi, a voi. 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 Un ringraziamento all'antico caffè, grazie Peppe! E anche un ringraziamento a Mardani! Tu chiedi nel favore, diceva a me, ma volessi stare suonato a me, perché non si chiude fare di faro fuori. E anche un ringraziamento a me, ma volessi stare suonato a me. E anche un ringraziamento a me, ma volessi stare suonato a me, ma volessi stare suonato a me. Un saluto alla famiglia Mazzaro! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.